Con profondo dolore ha preso la notizia che Don Paolo Piccoli, sacerdote incardinato nel presbiterio di questa arcidiocesi ma da sei anni rimorante fuori dal territorio aquilano, è indagato dalla magistratura con l'accusa di omicidio a danno di un anziano sacerdote di Trieste. Non ha avuto mai modo di incontrare personalmente Don Piccoli che, con il permesso del mio predecessore Monsignor Molinari, da novembre 2010 ha lasciato questa comunità ecclesiale per riavvicinarsi al suo ambiente di provenienza. Da quanto mi è stato riferito però tale decisione fu presa perché le drammatiche difficoltà del post-sisma interferivano negativamente sulle sue condizioni di salute. Lo scrive in una lettera aperta l'arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi commentando la notizia che vede indagato un parroco che prestò il suo ministero nell'Aquilano relativa all'omicidio del sacerdote 92enne Giuseppe Rocco originario di Barbana d'Istria, trovato cadavere due anni fa nella sua stanza al secondo piano della casa del clero di Trieste di via Basenghi. Inizialmente si era ipotizzata la morte naturale ma poi i risultati del RIS di Parma hanno fatto cadere i sospetti su Don Paolo Piccoli che per diversi anni è stato parroco di Pizzoli. Alcune tracce ematiche rinvenute nella stanza della vittima parterrebbero infatti proprio a Don Paolo che fino ad un paio d'anni fa viveva nella stessa casa del clero, ora incriminato per omicidio volontario aggravato nell'ambito di un'inchiesta che inizialmente lo vedeva solo come testimone. L'udienza preliminare nei confronti del religioso originario di Verona è stata fissata al prossimo 13 dicembre. Inoltre continua Monsignor Petrocchi che si appella alla presunzione d'innocenza per tutti gli indagati. Con tutto il cuore spero che Don Paolo Piccoli possa dimostrare la sua estranetà ai fatti delittuosi che gli vengono contestati. Per quanto mi riguarda, conclude Petrocchi, con l'intera chiesa aquilana c'è la ferma volontà di dare ogni apporto perché venga fatta giustizia e sia tutelata fino in fondo la legalità.